A tutti buonasera e benvenuti all'appuntamento con incontri. Siamo al Pacinotti, una fonte di sapere ma anche di partecipazione, di senso civile delle cose. Poi lo vedrete adesso andando avanti. Intanto cominciamo con le presentazioni e qui alla mia sinistra c'è Michele Rigazio che è preside dell'Istituto Pacinotti e alla mia destra c'è Rosanna Marletto che è l'ideatrice di questo progetto di filmati. Allora preside, intanto desidererei sapere questo. È una cosa molto importante quella per il fatto che i ragazzi vadano in questi campi, in queste gite di conoscenza tipo Auschwitz e Dachau. Fa parte del vostro programma didattico. Tanto è inserito nel programma didattico naturalmente. E poi è una grandissima esperienza di vita un'esperienza che lascia un segno potente. Anche se siamo abituati a considerare i giovani, dimenticando quello che siamo stati noi, come spugne che assorbono e poi magari trascurano e dimenticano. Non è affatto così. Questa è un'esperienza che io ne sono testimone. Ormai sono quattro anni che mi recono nei campi con l'associazione Ex Deportati e con me ci sono ragazzi del nostro liceo e vedo che ogni anno, ogni volta che ritorniamo indietro, la riflessione dei ragazzi è molto più profonda di quanto noi pensiamo. Ecco, conoscere. Conoscere poi anche per capire poi. Anche per capire le laceranti ferite che ha lasciato quel periodo. Conoscere per capire, perché la storia è una lezione di vita quotidiana. E conoscere per capire come siamo oggi, perché viviamo così e per molti aspetti dobbiamo il nostro presente a questo tragico passato. Nel bene e nel male, ovviamente. E le persone che hanno perso la loro vita per questa tragica realtà ci hanno consegnato un messaggio che noi dobbiamo assolutamente trasmettere alle generazioni. Dimenticare veramente la cosa peggiore che possiamo fare. E considerando che questo senso del male assoluto è nato qui, in Europa, diciamo nella culla della civiltà, ecco perché bisogna stare molto attenti sempre. Sì, quando si sente parlare di radici cristiane, giudaiche, eccetera, della nostra Europa, viene da pensare dove è stato messo quel messaggio, il messaggio cristiano. È veramente paradossale che mentre si dicono queste cose, nello stesso tempo ci sia ancora qualcuno, e mi riferisco chiaramente ai negazionisti, insomma, a coloro che hanno il coraggio di dire che questa tragica realtà è solo una costruzione esasperata di chi ha delle idee particolari. Insegnare ai giovani a pensare. Insegnare ai giovani a pensare, come leggo qui davanti a me, l'informazione libera è l'antidoto alla dittatura. È un antidoto profondo. Anche in quello cerchiamo, per quanto possiamo, di utilizzare strumenti di comunicazione dal giornale al cinema o alla televisione. Buon lavoro, presto. Grazie, grazie a voi. Qua invece è lei, signora Marletto, ideatrice di questo progetto del Pacinotti Cinema, perché c'è un filmato che parla dei pericoli della scuola, che possono anche essere molto pericolosi, presi anche in senso ironico, come è giusto. E poi c'è il discorso del viaggio in questi campi di concettamento di serio. È stato faticoso, è stato anche istruttivo anche per lei? Sì, io finalmente con un ragazzo del triennio ho trattato un tema serio, perché in genere con i ragazzi di prima e di seconda mi mantengo sull'ironia, che è più tipica della loro età. Il film sul viaggio di Brando ai campi di concentramento è capitato in un periodo in cui tutti i giorni alla televisione si vedevano le scene del terremoto, c'era questo dolore contemporaneo. E allora abbiamo dato un taglio particolare, l'abbiamo inserito, il dolore degli ebrei, in una specie di dolore cosmico. Tutti i dolori, in fondo, sono grandi per chi li prova. Abbiamo dato questo taglio così esistenziale che è piaciuto, perché è stato anche già premiato in un concorso. I giovani come hanno risposto questi ragazzi che sono sempre un pochino troppo bistrattati, mentre invece io ho notato la partecipazione, la freschezza, la voglia di fare. No, questo è stato un film ovviamente meno corale di quelli soliti che giro con due classi, con 50 persone. Però anche i ragazzi del bienio che l'hanno visto hanno pensato. In fondo, se i nostri sono ragazzi così, che magari fanno i bulli in certi film, perché sono richiesti dal copione, sono tendenzialmente vivaci, ma di fronte a dei problemi seri, insomma, si fermano a ragionare. Ecco, capiscono che ci sono anche argomenti importanti. Ecco, come diceva il Preside, i ragazzi sono bravi. Bisogna dargli la possibilità di esprimersi. Noi li facciamo studiare, perché siamo conosciuti per la nostra, insomma, serietà qua. Però, anche scherzando, giocando, si può riflettere su argomenti importanti. In genere, i temi che tratta il Pacinotti Cinema sono sempre temi sociali. Ne parliamo dei diversi, di problemi giovanili, del bullismo, l'anoressia. È da cinque anni che trattiamo temi importanti. E col sorriso forse è più facile farli recepire a quell'età. Però, crescendo, altri anni, insomma, la maturazione interiore deve continuare. Il dolore è fondamentale. Io penso che senza conoscere il dolore i giovani non maturino. E se no rimarranno bamboccioni tutta la vita, come ha detto Padoa Schioppa. Per cui facciamoli crescere. L'importante è reagire di fronte alla sofferenza. Non fermarsi lì, ma, insomma, avere coraggio e non spaventarsi. Anche perché vedo che i premi poi arrivano. Quindi la partecipazione è anche, diciamo, la serietà e la professionalità che dimostra. Vorrei dire una cosa. I nostri premi premiano la nostra volontà, l'entusiasmo, le idee. Noi abbiamo pochi mezzi. Non siamo una scuola con un laboratorio cinematografico. Non chiamiamo registi esterni. Io, quando mi siedo alle premiazioni dei concorsi e vicino a me ci sono colleghi che hanno avuto 2.000 euro dalla regione, dall'assessore finanziamenti. Io giro a costo zero. Mi siedo accanto a loro e sono premiata ugualmente. e mi sento doppiamente vincitrice perché noi montiamo a casa, nel computer di casa, giriamo con una macchina artigianale. Per cui è la forza delle idee, direi, del Pacinotti Cinema che vince. E questi sono i frutti. Io dovevo augurarvi anche lei buon lavoro. Grazie. Ma noi ci riuniamo al pomeriggio, pensiamo, è un lavoro continuo, è una fucina. Deci sapere, eh. Abbiamo già altri due film in cantiere. Quest'anno anche un musical faremo. Siamo sempre, traguardi sempre più alti. Siamo coraggiosi, ecco. Premio coraggio. Ecco, questa è stata una forma di presentazione. E adesso c'è l'attore principale, che poi sentiremo naturalmente. Ecco il film di questa sua esperienza in questo campo di concentramento, giovane, per la prima volta. E guardate come lui ha saputo, evidentemente, rappresentare questo suo viaggio in un campo di sterminio nazista.